AMG 63 AMG 63 AMG 63 AMG 63 AMG 63 Ciao a tutti ragazzi sono Maxim Tricolici e oggi vi farò vedere un piccolo trucco su Farmville 2 avventura rurale apriamo il gioco ecco questo trucco consiste a guadagnare tantissime monete in poco tempo allora per fare questo trucco ci serviranno gli alberi di pesco pera limoni e limoni poi ci serviranno pure l'orto di mirtilli e poi e poi basta ok mettiamo a crescere i limoni poi le pere e i mirtilli ok adesso abbiamo messo tutto ecco i pè e le pesche ok vedo che ho fatto tutto adesso andremo a mettere l'orologio generali e andremo a metterlo con un giorno in avanti parte di 14 ottobre ok allora apriamo di nuovo il gioco e vedremo che le nostre le nostre colture saranno cresciute adesso dovremo raccoglierli ok poi cliccate sul silos e vendeteli poi così fate anche i limoni e i mirtilli ok e facendo tante volte questi passaggi guadagnerete tipo 40.000 ogni volta e quindi facendo tante volte questo passaggio guadagnerete tipo anche un milione in in 10 e 15 minuti ok io grazie a questo trucco ho sbloccato questi terreni sono riuscito a finire questo cavallo perchè ero in ritardo con l'evento e sono riuscito a sbloccare questo cavallo in soltanto 3 giorni ok questo trucco è fighissimo in questo video vi ho fatto come utilizzare questo trucco per avere tanti soldi in poco tempo fate questo passaggio tante volte così e avrete tantissimi soldi ok quindi per fare il milione come ho detto prima vi serve da soltanto 10 minuti così se vi impegnate a fare tutto velocemente e spero che questo trucco vi sia stato utile se è lo stato così mettete un mi piace e commentate e iscrivetevi al mio canale questo è tutto ciao da Maxime Fricolici ciao 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 ciao